dunque ragazzi sono sfinuto mi sono appena ripreso ho acceso la videocamera vediamo se riusciamo a filmare questa meraviglia questo porcino che è stato una bellezza secondo me guardiamolo un po' con il canale ve lo dico perchè ho toccato il cavo e mi ha impressionato è un po' severo eh si mamma mia ragazzi non ci credo ma dai sto sognando ragazzi questi sono i miraggi siamo nel mondo dei sogni dei miraggi fra un po' mi sveglio tutto ciò non sarà più vero madonna mamma mia che meraviglia che meraviglia ragazzi da natura è una cosa incredibile guardate ah niente siamo perfetti qua lo porto subito al museo ragazzi qua momento di quelli giusti molto giusti sentato fatti un po' vedere devo sapere se sei perfetto mamma mia no no non è perfetto è un po' più di perfetto questo è stato fatti vedere vieni mamma mia come sei bello sei bellissimo stella vediamo qui vediamo qua potrebbe essere un carvia stella ma quanto sei cardiopatico guarda che caldo ma che caldo ma sei bellissimo amore è splendido questo iniziando a pulirlo e poi l'altro bello guardiamo questo cos'è mamma mia ma anche tu sei un bello bello guarda che bellissimo giugno belli tutti e due guardiamo qua ragazzi che bello guarda un quadro è uscito un quadretto bellissimo fatevi raccogliarmi guarda siete bellissimi dunque mi sembra un altro bellissimo oggetto vediamo un po' come questo oggetto qua vediamo un po' come è questo meraviglia il gambo non è male eh sì sì si è bellissimo si è bellissimo stella allora ragazzi qui hanno raccolto qualcosa di grosso anche la anche la ma qua c'è due gioielli bellissimi guardate sono qui lì con il bambone di rosso questi fatti vedere amore fatti vedere stanno vieni 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 a papà stella vieni 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 bravo bello poi c'è un altro anche qua questo è un giugliello questo è un giugliello puro un giugliello perfetto si è un giugliello questo è un giugliello che bello amore che sei è un giugliello anche lui più piccolo ma molto giugliello è un giugliello stella anche te è un giugliello guardate direi un piacevole incontro andiamo a vedere andiamo a vedere vediamo com'è vediamo com'è vediamo com'è vediamo com'è brillante brillante stai là tu brillante un altro ragazzi un altro mi sa vediamo facciamo una salta del gambo eh si direi che fa un bel gambo anche lui infatti questa una 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 si difende bene anche il ragazzo qua ragazzi un altro gigante gigante insomma di quel bel guarda 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 via sei bello vediamo come sei bianco guarda guardiamo nel bosco via anche questo ragazzi è un super giuriello purissimo bellissimo stai guarda come sei e si carino è luccidi anche tu e ster vediamo qua c'è un piccolo gioiello facciamo vedere questa luccichina anche lui è un bellissimo luccichino facciamoci qua questa bellezza musica 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 Grazie a tutti.